ciao dimmi devi dire qualcosa no no nulla tranquillo avvicinati qui e vieni tranquillo veramente avvicinati no no con quel bastone non mi avvicino a costa di di aiuto no ho visto i tuoi video ti seguo tu mi fai male ah il bastone no ma quelli sono video sto scherzando non è che mi metto a dare colpi veramente di bastone devi stare sereno vieni qua sei sicuro che non mi fai male mi avvicino è certo avvicinati vieni da voi una birretta no guarda che non bevo tanto di birra cioè e perché dai non ti voglio disturbare lascia stare tranquillo ma non ando mai da voi una birretta dai se insisti un'analcolica cosa non ho capito è che la bevo analcolica quella normale mi sale subito non fa mi dispiace ma l'ho sentito male io come la vuoi la birra analcolica analcolica ho capito ahia aia 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 aia7 aia mola mi ragazzo miset ma non scemmo in